Eccoci di nuovo. A questo punto inizieremo con i rametti che partono dai nodini che dipingeremo sul bambù. Teniamo il pennello ben stretto. Uno, due, tre. Ok, appoggiamo linea a tre quarti secondo tratto, a tre quarti del rametto il terzo tratto e continueremo così. Anche i rametti potranno risultare un po' difficili, ma non demordete. Farete un bellissimo lavoro. Questi rametti verranno posizionati poi sul nodino che dipingeremo sul bambù. Continuate così. Dopodiché passeremo al prossimo tutorial. Grazie. Grazie. Ciao.